È l'impianto di recupero integrale di Sanzeno ad ospitare Sassnet, un progetto europeo che ha l'obiettivo pratico di far entrare dentro le aziende la sostenibilità e fare poi in modo che questa venga trasmessa anche alle catene dei loro clienti e fornitori. Si tratta di un progetto Erasmus di collaborazione europea di partenariato finanziato in Spagna nell'ambito della formazione professionale. Il progetto coinvolge 5 organizzazioni micro di Spagna, Cipro, Grecia, Italia e Danimarca, le quali collaborano insieme per apprendere come portare avanti i progetti di sostenibilità all'interno delle loro organizzazioni, progetti ma anche network, quindi progetti europei in partenariato che siano sostenibili. Aiuta anche le organizzazioni ad insegnare ai loro dipendenti come apprendere, appunto, come portare avanti attività sostenibili all'interno delle organizzazioni. Quindi è un progetto di formazione per le micro organizzazioni. Può essere il nostro progetto con questa stessa organizzazione? L'attivo fondamentale non solo se è sostenibile, se è nostra organizzazione. Praticamente il progetto non mira solo a lavorare all'interno delle organizzazioni, quindi ad apprendere, a permettere ai dipendenti di apprendere come portare avanti all'interno delle organizzazioni i processi di sostenibilità, ma anche come creare network, quindi come coinvolgere i clienti, come coinvolgere i fornitori, i quali in network, in collaborazione, portano avanti i processi sostenibili di sviluppo e di produzione. L'impianto, dunque, attraverso la collaborazione con OpenCom diventa un esempio a livello europeo. Sapere che in questa delegazione sono presenti tanti paesi europei, tra cui la Danimarca, che a Copenaghen vanta un'impiantistica d'eccellenza, in cui si fanno addirittura attività sportive, per noi è qualcosa che ci fa molto piacere perché anche il nostro impianto, questo impianto di Arezzo, che è di tutti i cittadini, ricordo, è pubblico, avrà e ha già adesso delle zone dedicate alle attività sportive. Le sportive saranno dedicate a tutto quello che è il messaggio sull'importanza delle piante, con Bosco Fratino, primo step, l'abbiamo presentato veramente pochi giorni fa. Qui ci sarà tutto un bosco tra 3-4 anni. e poi ci saranno tutta una serie di attività mirate per le scuole per far capire l'importanza di questi impianti. Se non si vedono, se non si vivono, purtroppo si fanno chiaramente avanti tutta una serie di ombre che purtroppo sono state utilizzate nel passato anche per delle strumentalizzazioni. Ciò fa male a tutti quanti perché il concetto degli impianti come questo, sono a servizio dell'economia circolare e il concetto è lavorare i rifiuti a chilometro zero all'interno di un ambito di produzione degli stessi rifiuti che sia ottimale.